ahahahahah guardate che si ha detto beh non so non ci sono più andato o no non ci sono sempre avuto questa cosa dove ci siamo allora allora e intanto è un giocatore e non si è un giocatore io ringrazio e sono la parte di Maria non si è un giocatore non si è un giocatore a un posto dove scorre l'acqua ooooh 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 Arisa, ora c'è il vero vediamo, vai Antonino Sponti nel soldato, arriva nel compieno. Sì, no, sacrifici che ti vai. No, andateci lì. Troppo tempo, sì. La ricerca del troppo tempo. No, del temere.